A seguito di una mirata attività info-investigativa nell'ambito del contrasto alle frodi riguardanti le accise, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nei giorni scorsi ha individuato e sequestrato in un comune cilentano oltre 80 bombole di GPL, illicitamente detenute per la commercializzazione. In particolare i finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania durante un servizio sull'attività di distribuzione e di vendita di CPL in recipienti hanno notato all'esterno di un fabbricato di tipo rurale più di 50 bombole di combustibile. I riscontri eseguiti sul posto hanno permesso di identificare il proprietario del terreno, risultato anche titolare di un negozio di genere alimentari, dove i militari, proseguendo nell'attività di controllo, hanno rinvenuto all'interno di un locale di 10 metri quadri circa un secondo deposito, contenente ulteriore 29 bombole di GPL. Pertanto, dopo aver accertato l'assenza delle prescritte autorizzazioni necessarie per la detenzione del prodotto, le fiamme gialle e vallesi hanno proceduto a sequestro della merce, segnalando nel contempo il soggetto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per il reato di omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente e per l'esercizio di attività di rivendita e deposito di GPL, in assenza del prescritto certificato di prevenzione degli incendi, anche se non su un giudizio di colpoevolezza può essere espresso, fin tanto che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna.